Un uomo di 69 anni ha perso la vita cadendo dalla terrazza del terzo piano dell'hotel Angela in Sassoni a Fano che si affaccia sul retro della struttura accanto alla porta di servizio della cucina. Nessun dubbio sulle cause della caduta, un gesto volontario che l'uomo ha compiuto tra l'una e le cinque del mattino della scorsa notte. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nello spazio confinante con l'hotel Marina dall'autista della lavanderia che stava per ritirare la biancheria sporca attorno alle 5.30 di oggi. Oltre ai carabinieri di Fano è arrivata subito l'ambulanza del 118 però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il 69enne coniugato di origini milanesi e residente nel capoluogo Lombardo era arrivato nella giornata di sabato. Il titolare della struttura Mario Verni lo ricorda però come una persona dall'aria assente e spersa. Nella giornata di domenica ci dice Verni passeggiava davanti all'hotel assorto nei suoi pensieri, parlava pochissimo. Nella sua stanza al terzo piano il 69enne ha lasciato un foglietto di scuse scritto di proprio pugno che non lascia dubbi sulla natura del gesto ma che le parole scritte dall'uomo questa non è vita non ce la faccio più apre diverse ipotesi ai carabinieri di Fano che indagano sull'accaduto sui motivi che lo hanno spinto a tanto.